Di principio oggi si potrebbe costruire dei DNA con un alfabeto di 6, di 8, di 10 lettere. Lì per lì questo sembra un po' inutile e dal punto di vista pratico, francamente, non riesco a vederne una grande utilizzazione. Però dal punto di vista di principio l'uomo veramente è padrone della biologia, della vita ed è padrone di fare organismi che non sono mai esistiti e che potrebbero entrare, chi lo sa, domani nel novero degli organismi viventi. Le chiediamo un grosso sforzo di fantasia per immaginare quali potrebbero essere in un futuro, magari anche lontano, le applicazioni pratiche della vita artificiale. Guarda, quelle reali sono semplici. Costruire batteri servizievoli che per esempio disinquinano le acque, disinquinano l'aria, producono biocombustibile, producono comunque sostanze che già esistono ma sono rare. Questo è sicuro. Quello che uno se vuole può pensare è che magari i nostri nipoti gireranno per como con un cagnolino azzurro o con un uccellino o con quattro ali. Tra poco scopriremo che le cose più importanti la fa la parte sconosciuta del DNA piuttosto che quella conosciuta. Per quanto riguarda me, che sono un curiosone, mi piacerebbe prima di morire che qualcuno rispondesse alla domanda. Noi e gli scimpanzei siamo similissimi. Noi parliamo e loro no. Dove sta scritto che noi parliamo e loro no? In quale parte del loro o del nostro DNA? Spero di avere questa risposta prima di morire. Grazie a tutti.